buongiorno e benvenuti al mio canale come probabilmente saprete esiste un dispositivo di amazon che si chiama fire tv stick che ci permette di convertire un televisore anche molto vecchio in una smart tv semplicemente si utilizza questo piccolissimo strumento vedete qua si mette in una porta hdmi del televisore ovviamente non c'è soltanto questa chiavetta c'è anche il telecomando c'è anche l'alimentatore ci dovrebbe essere ecco qua tutto quello che c'è c'è l'alimentatore la chiavetta il telecomando che sono anche le file per il telecomando si inserisce questo strumento qua in una porta hdmi del televisore e quindi noi possiamo ovviamente con la connessione al segnale wifi dell'appartamento avere una smart tv in un televisore che invece non lo è smart tv e adesso vediamo come trasmettere il nostro dispositivo android o anche iphone su questa smart tv con creata con fire tv stick senza installare nessuna applicazione aggiuntiva ma solo con le funzionalità di fire tv stick fire tv stick è attualmente rilasciato in tre diverse versioni questa è la light quella che chiamo così che costa di meno poi c'è la 4k ovviamente per una trasmissione 4k e poi c'è la max che ha ulteriori funzionalità sostanzialmente trasmette anche in 4k ma supporta anche lo wifi 6 e adesso vediamo come procedere anche se è semplicissimo io in questo momento sto effettuando due registrazioni la registrazione dello schermo dello smartphone e la registrazione del televisore fire tv tv ho in mano il telecomando di fire tv stick e vado sulle impostazioni le impostazioni sono queste eccole qua trovo il ciclicato sopra vado su suoni e schermo ecco qua e adesso vado in basso fino a trovare attiva duplicazione schermo ci clicco sopra ecco qua questo è il nome che viene dato alla fire tv fire tv stick camera quindi adesso vado sul cellulare e apro il menu a scomparsa e vado su screencast eccolo qua perché questo è android ma lo si può fare anche con iphone tra i vari dispositivi cui posso proiettare lo schermo del mio cellulare cerco appunto fire tv stick camera ci tocco sopra vado su avvia adesso e adesso si ci sarà la duplicazione dello schermo e si vedrà lo schermo dello smartphone direttamente sul televisore fire tv stick eccolo qua come vedete se io agisco qua vedo anche quello che succede sullo smartphone naturalmente io potrei aprire un servizio di streaming però in questo caso non sempre funziona per esempio Rayplay funziona però quelli a pagamento non funzionano per esempio su Rayplay eventualmente posso scegliere qualsiasi cosa e farlo andare se invece vado per esempio su Netflix io chiaramente posso entrare ma nel momento in cui poi tento di riprodurre qualcosa magari si vede tutto adesso non lo faccio ma comunque però si può utilizzare questo sistema per per esempio visualizzare dei video che abbiamo nel cellulare visualizzarli sul televisore faccio vedere come si fa sullo smartphone si cerca il file manager per esempio questo è un oneplus vado sul mio file manager i miei file vado su video vado su video e quindi seleziono un video qualsiasi per esempio selezioniamo questo video qua trovo selezionato vado su condividi oppure no su altro qui e vado su apricone per scegliere VLC media player che è appunto lo strumento secondo me migliore per riprodurre i video nel televisore direttamente da smartphone vado su apricone e scelgo appunto VLC media player che naturalmente deve essere installato nello smartphone ma è gratuito ovviamente lo apro ed ecco qua che adesso si vede il video nel televisore mentre nello smartphone non si vede niente posso tornare indietro naturalmente e aprire un altro video che ne so posso aprire un video che ho girato recentemente io per esempio questo qua per esempio l'ho girato io recentemente e capriamo questo video qua che l'ho girato io qualche tempo fa vado su VLC e adesso lo sto vedendo nel televisore vedete posso aumentare anche il volume quando ho collegato qui c'è il volume lo posso direttamente impostare dallo smartphone come sto aumentando e sul base è il massimo e questo invece lo sto diminuendo però sullo smartphone non si vede niente si vede soltanto questa icona mentre sul televisore si vede il video che sta andando nello smartphone posso tornare indietro posso poi che so naturalmente visualizzare tutto quello che mi pare posso aprire facebook posso aprire quello quello che voglio tutto quello che viene mostrato nello smartphone si visualizza anche sul mio Fire TV e naturalmente questa è una cosa che è particolarmente interessante secondo me nel momento in cui si vuole mostrare in uno schermo grande un video per esempio che abbiamo registrato con il cellulare ma può essere utile anche in molti altri casi ovviamente si può anche navigare su internet e navigando su internet si vede quello che stiamo navigando direttamente nello schermo del televisore possiamo per esempio visualizzare questo video possiamo metterlo a tutta pagina ecco qua e naturalmente possiamo tornare indietro poi ecco qua siamo tornati alla home voi non lo vedete ma nel cellulare c'è una icona verde con cui io posso interrompere la trasmissione a file a tv stick quando voglio interrompo la trasmissione ecco qua interrompi screencast si ritornerà alla visualizzazione normale interrompi screencast e si uscirà dalla duplicazione schermo in questo modo e quindi posso mediante il telecomando del file a tv stick tornare alla home principale per poi eventualmente navigare come meglio credo e questo è tutto alla prossima volta arrivederci endedino Grazie.